Come posso migliorare la memoria? Esistono diversi modi per migliorare la memoria e aumentare la capacità di conservare le informazioni. I tipi di tecniche che scegli dipenderanno molto da come impari meglio e quali sono le informazioni che devi imparare. Perlomeno, dovresti cercare di mangiare cibi sani, dormire ogni notte in modo adeguato, ridurre lo stress ogni volta che è possibile, e impegnarti regolarmente nella costruzione della memoria e nel potenziare gli esercizi. Dovresti anche prendere in considerazione tecniche specifiche per migliorare la memoria, come l'utilizzo di dispositivi mnemonici e la ripetizione di informazioni per migliorare la conservazione delle informazioni. Uno dei modi più semplici per migliorare la memoria è assicurarsi di vivere uno stile di vita sano. Mangiare bene può aiutarti a migliorare la memoria, assicurando che il tuo cervello sia nutrito correttamente con le sostanze nutritive e le vitamine necessarie per funzionare correttamente. L'esercizio fisico regolare può anche aiutare la memoria, poiché l'ossigeno al cervello aiuta a liberare i pensieri e a concentrarsi sulle informazioni. Alcuni giochi che usano la tua mente, come i cruciverba e il sudoku, spesso possono aiutarti a migliorare la tua memoria poiché esercitare il tuo cervello tende a renderlo più forte. Dovresti anche assicurarti di avere un minimo di sette ore di sonno ogni notte per essere completamente riposati e meglio in grado di ricevere, codificare e richiamare informazioni. Ricevere informazioni è la prima parte della memoria e implica che tu sia effettivamente a conoscenza delle informazioni che devi ricordare. Spesso puoi migliorare la memoria aumentando il modo in cui ricevi le informazioni sia concentrandoti sulle informazioni sia cercando di riceverle in più di un modo. Se riesci a leggere le informazioni mentre senti che è stata pronunciata, spesso hai maggiori probabilità di ricevere tali informazioni correttamente. Dovresti anche essere sicuro di concentrarti e concentrare la tua attenzione sulle informazioni che ricevi. La codifica è il processo mediante il quale le informazioni che ricevi sono effettivamente memorizzate nella tua memoria dal tuo cervello. Puoi migliorare la memoria aumentando l'efficacia della codifica attraverso l'uso di dispositivi mnemonici e altri trucchi per migliorare la memoria. Questo spesso include l'uso di acronimi, frasi e rime per aiutarti a ricordare le informazioni. Molti musicisti principianti ricordano le battute di uno staff acuto come Very Good Boy Doe S fine per E, G, B, D e F e le linee tra loro con la parola face per F, A, C ed E. Questi tipi di dispositivi spesso aiutano la codifica delle informazioni per il richiamo in un secondo momento. Il richiamo è il processo mediante il quale ti ricordi le informazioni che hai ricevuto e memorizzato quando ne hai bisogno. Se stai cercando di ricordare il numero di telefono di qualcuno o di superare un test, il processo è lo stesso. Usando i dispositivi mnemonici è sufficiente ricordare la rima o l'acronimo e quindi ricordare cosa significa tutto, spesso è più facile che ricordare una lunga lista di dettagli. Puoi anche migliorare la memoria cercando di apprendere il materiale nelle stesse condizioni in cui dovrai richiamarlo. Alcuni test hanno dimostrato che le persone spesso richiamano più facilmente le informazioni in uno stato mentale simile a come apprendono le informazioni, quindi cerca di evitare di apprendere nuovo materiale o di studiare in condizioni drasticamente diverse da come dovrai richiamare il materiale.